Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del nostro telegiornale oggi è dedicata agli arresti eseguiti dalla polizia di Gela. L'approfondimento è in questo servizio, vediamo. 4.000 euro oppure ti uccidiamo. Sarebbe stata questa la richiesta recapitata ad un imprenditore locale, così sono stati arrestati con il denaro in mano. In manette sono finiti il 28enne Marianne Jacob e il 42enne Marius Sarmati. Si tratta di due cittadini romeni da tempo residenti in città. La prima richiesta estorsiva sarebbe stata formulata dal 28enne Jacob. In più occasioni l'imprenditore avrebbe subito pressioni e alla fine ha scelto di rivolgersi agli agenti di polizia. Proprio gli uomini del commissariato di Gela, coordinati dal dirigente Francesco Marino e quelli della mobile Nissena, hanno avviato indagini. I due romeni sono stati arrestati ieri sera nei pressi della villa Garibaldi. Era stato fissato lì, infatti, l'appuntamento con l'imprenditore pronto a versare una prima tranche di 2.000 euro. A riscuotere il denaro è stato Marianne Jacob, mentre Marius Sarmati lo attendeva a bordo di un'automobile. Adesso, con l'accusa di estorsione, si trovano reclusi nel carcere di Balate, in attesa di essere sentiti dai magistrati della procura. Il via libera agli arresti è arrivato dal procuratore capo Fernando Asaro e dal sostituto Lara Secaccini. Voglio sottolineare l'importanza dei due arresti che la Polizia d'Estato, in questo caso il commissariato di Gela, unedamente ai colleghi della squadra mobile di Caltanessetta, hanno ottenuto con il perfetto coordinamento della procura di Gela nella persona del procuratore capo, il dottore Asaro, e della dottoressa Secaccini, in merito all'arresto in fragranza di due estortori rumeni, trattandosi di una fenomenologia criminale ancora non monitorata in questa zona, che, appunto, questa azione è molto mirata e soprattutto veloce, è riuscita nel giro di 20 giorni a bloccare questi due soggetti che erano riusciti a intimorire, minacciandolo di morte un imprenditore gelese che ha trovato il coraggio di denunciare e subito la Polizia si è messa all'opera e nel giro di pochi giorni sono stati, appunto, non solo individuati, ma anche bloccati proprio con una prima tranche della rata estortiva addosso. Voglio sottolineare l'importanza, appunto, della sinergia che si è instaurata da più tempo sia con l'autorità giudiziaria e anche con l'associazione Antiragat che ha, diciamo, operato in maniera certosina per l'opera di convincimento dell'imprenditore affinché, appunto, ci raccontasse tutti i dettagli che poi abbiamo sviluppato per fornire ai magistrati quanti più indizi con il resto in fragranza ottenuti, assicurando alla giustizia i due pericolosi criminali. Ed è finito sotto sequestro un autolavaggio a sette farine. Gli agenti di Polizia dell'Ufficio Amministrativo e Sociale hanno scoperto irregolarità nello scarico delle acque in un'attività a sette farine gestita da un 32enne. Già a marzo il titolare era stato denunciato dopo che gli agenti di Polizia trovarono nella sua disponibilità cinque moto da cross probabilmente rubate. Intanto sono proseguiti i controlli in diversi lidi e locali della città, 20 attività controllate, due infrazioni al testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e 60 persone sottoposte ad accertamenti. Un 49enne è stato denunciato per aver organizzato una serata di spettacolo senza autorizzazione. Invece ai domiciliari finiscono un 32enne che deve scontare una pena definitiva a cinque anni di reclusione per costruzione abusiva e un 26enne condannato ad un anno e mezzo per furta aggravata. I provvedimenti sono stati eseguiti tutti dagli agenti di Polizia. E su ordine del Ministero dello Sviluppo Economico e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto oggi e domani il personale del nucleo subacqueo di Messina del Corpo delle Capitanerie di Porto effettuerà con l'ausilio del personale della Guardia Costiera di Gela un controllo delle piattaforme offshore ricadenti nel territorio di giurisdizione. L'attività di ispezione è effettuata con l'utilizzo di un robot denominato ROV che funziona collegato via cavo alla postazione remota di riferimento posizionata a bordo della motovedetta CP722 della Capitaneria di Porto di Gela. L'attività di verifica mirata ad accertare lo stato di salute delle piattaforme e delle strutture posizionate al di sotto delle stesse proseguirà nei prossimi mesi estivi con ripetute ispezioni sulle tre piattaforme che insistono sulle acque prospicenti e le coste gelesi in modo da salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema marino. Una delegazione della dodicesima commissione parlamentare permanente igiene e sanità del Senato della Repubblica è stata in missione a Caltanissetta per svolgere un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori e delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica nel territorio di Gela. Vediamo. È arrivata con un clamoroso ritardo in città la delegazione della dodicesima commissione parlamentare e permanente igiene e sanità del Senato della Repubblica in missione a Caltanissetta per svolgere un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori e delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica nel territorio di Gela. I senatori presenti in prefettura dove nel piano nobile e nel salone degli specchi è stato allestito un apposito tavolo per le audizioni hanno audito in prima battuta il prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta a Fernando Asaro, a seguire anche il direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono ed il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici Giovanni Di Polito. La delegazione composta per la visita siciliana che ha toccato anche la città di Ragusa è stata composta appunto da quattro senatori Lucio Romano, presidente Maurizio Romani, Luigi Gaetti, Venera Padua un maresciallo dei carabinieri ed un medico consulente della commissione. E' un'indagine conoscitiva che la commissione igiene e sanità sta portando avanti sul tema inquinamento ambientale, tumori, malformazione di fetoneonatali ed epigenetica e questa rientra tra le tappe obbligatorie da parte della commissione per un approfondimento su temi particolarmente delicati e che sono molto molto all'attenzione dell'opinione pubblica. La situazione di Gioia è una situazione grave e complicata alla fine cosa deciderete di fare questi atti? Che risultato avranno? Dove li porterete? Ascoltiamo prima le audizioni e poi provvederemo a fare una relazione che sarà sottoposta all'attenzione di tutti i senatori della commissione igiene e sanità per i provvedimenti d'Ordine. Intanto un dossier è stato presentato alla commissione dal top manager dell'ASP2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono. Sentiamo. Direttore Iacono, quali sono i risultati che voi avete ottenuto rispetto all'indagine sui tumori e sull'inquinamento in questo territorio? Stiamo portando gli ultimi dati maturi che provengono dai registri tumori e che si riferiscono al 2012. Gli altri dati saranno pubblicati successivamente e stiamo portando i dati relativamente alla rilevazione di quelle che sono le malformazioni nei neonati presso il territorio dell'area rischio ambientale. L'analisi dei dati mostra, mettendo a paragone il periodo che va dal 2007 al 2009, il periodo che va dal 2010 al 2012, dai dati che si evincono dai registri tumori, si evince che c'è un incremento di casi per quanto riguarda il sesso femminile, di circa 50 casi, però c'è un decremento di oltre 60 casi registrati per quanto riguarda il sesso maschile. Questo ovviamente è un argomento su cui bisogna ragionare e quindi valutare il perché avvengono queste cose. Però una cosa è chiara e evidente è che ci sono anche dei casi in diminuzione sul sesso maschile e quindi bisogna andare a vedere, a ricercare quali sono gli elementi scientifici che possano giustificare questo dato. Per quanto riguarda i malformati c'è una piccolissima incidenza maggiore rispetto a tutti i tipi dei malformati, però questa incidenza è evidente per quanto riguarda le malformazioni dell'apparato urinario e dell'apparato muscolo-scheletrico. I dati che abbiamo ricavato dalla Regione sono dati che mostrano dei numeri che possono assumere anche una significatività statistica, però sono dati che sono stati rilevati in un modo un po' particolare, con un modo di rilevazione che ha soltanto la Sicilia e l'Emilia Romagna, cioè non soltanto la rilevazione alla nascita ma l'osservazione per un anno di tutti i ricoverati. Quindi io darò questi dati alla Commissione che metterà assieme tutte le altre informazioni, quelle che sono le altre informazioni che riceverà. La chiusura del reparto di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele sarà sicuramente al centro del dibattito anche in Consiglio Comunale. I consiglieri del gruppo del Partito Democratico e le esponenti del megafono Sara Bonura e Maria Pingo hanno deciso di presentare una interrogazione sul caso. Tra i democratici la questione viene sollevata da Vincenzo Cirignotta, Romina Morselli, Carmelo Orlando, Salvatore Gallo e dal presidente del Consiglio Alessandra Ascia. Chiedono al sindaco Domenico Messinese di sapere quali azioni intenda adottare per la riattivazione di un reparto ritenuto strategico. I consiglieri comunali che hanno scelto di portare la questione in aula inoltre chiedono di valutare l'operato del manager Carmelo Iacono che soltanto qualche settimana fa proprio tra gli scranni dell'aula consigliare aveva preannunciato un netto potenziamento dei reparti del Vittorio Emanuele. Impegno che adesso sembra cozzare con la scelta legata soprattutto alla carenza di personale medico di chiudere il reparto di malattie infettive trasferendo i casi più gravi a Caltanissette e facendo mancare un supporto fondamentale a tali pazienti. È prevista fino al 30 luglio prossimo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la presenza del camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ci si potrà presentare anche senza specifico invito l'esame infatti verrà effettuato ugualmente contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon l'iniziativa è dell'ASP2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte le patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'ASP E adesso ci occupiamo di politica 5 interrogazioni sono state presentate dai consiglieri comunali del Partito Democratico sentiamo Ben 5 interrogazioni sono state depositate dai consiglieri comunali del Partito Democratico Vincenzo Cirignotta, Salvatore Gallo, Carmelo Orlando e Romina Morselli Gli argomenti dei documenti riguardano certo tematiche di rilievo che hanno investito l'intera comunità cittadina ovvero la viabilità del lungomare Federico II la riqualificazione di una seconda parte di esso l'impiego dei lavoratori beneficiari dell'assegno civico il potenziamento dell'organico dei vigili urbani nel periodo estivo e del parco mezzi messi in notificatori Chiediamo all'amministrazione comunale di accelerare l'iter per la definizione del progetto esecutivo il lungomare è diventato ormai un'attrattiva non solo per i residenti ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi quindi chiediamo ma lo chiede la città, i residenti, i titolari di attività commerciali chiediamo che la riqualificazione si stenda al tratto di lungomare che va dalla capitaneria di Porto fino al locale della radioterapia visto le condizioni pessime della città per quanto riguarda la polizia anche le erbacce che esistono sui marciapiedi nelle strade chiediamo al signor sindaco in questa interrogazione di utilizzare i lavoratori dell'assegno civico i cui candieri partiranno a breve proprio in questo settore, in questa tematica Peraltro i lavori dureranno circa tre mesi E quando pare, così come annunciato anche dall'assessore Abela è condivisibile, è una cosa condivisibile e ci sarà anche l'allargamento della graduatoria quindi aumenterà il numero dei beneficiari che saranno utilizzati in questa attività Per rendere insomma più decorosa la città Sì, in questo momento veramente chi viene da fuori, ma non solo i concittadini la città è sporca in tutti i suoi quartieri per non parlare di manfria Con tutti questi campi di marcia sensi direzioni, sensi unici ZTL, è chiaro che un incremento della dotazione dei vigili urbani è necessaria e noi chiediamo che vengano dotati di bici così come avviene tutte le città moderne I vigili urbani dovrebbero controllare il corso il lungomare, dove noi come Partito Democratico siamo a controllare il senso unico ma noi pensiamo al lungomare con un'area pedonale Quando avranno luogo queste cinque interrogazioni? Nella seduta del question time del 2 agosto Desidero manifestare disappunto sull'episodio in cui abbiamo assistito stamane che si è concluso con il malessere occorso al consigliere Casano che rappresenta un disagio rispetto agli eventi che si susseguono da qualche giorno che non deve essere sottovalutato Lo scrive in una nota inviata alla stampa il presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia in merito alla protesta di ieri di alcuni consiglieri comunali per manifestare la loro opposizione agli stalli per la sosta in piazza San Francesco Il consiglio comunale non starà a guardare intende esercitare il potere che lo Stato gli conferisce i cittadini gli hanno consegnato con il loro voto continua Ascia la democrazia che a fatica i nostri padri statisti hanno conquistato nella storia rappresenta un'evoluzione che è il dovere di essere coltivata con il confronto democratico Nelle ultime settimane invece si assiste a interventi calati dall'alto disastrosi per la cittadinanza e che nonostante tutto vengono mantenuti per vicacia tale da esasperare ulteriormente gli animi auspico che il buonsenso prevalga conclude Alessandra Ascia e che si mettano in atto provvedimenti utili e che soddisfino le aspettative dei nostri concittadini che hanno riposto la fiducia in noi per un reale cambiamento L'ordinanza che va a rafforzare il sistema di raccolta differenziata in città non verrà ritirata abbiamo l'esigenza di incrementare del 6% nei prossimi 6 mesi Il vice sindaco Simone Siciliano esclude che ci possano essere passi indietro rispetto al provvedimento firmato dal primo cittadino mentre in Consiglio Comunale è ancora in discussione il regolamento sulla differenziata Non possiamo aspettare i tempi legittimi del Consiglio Comunale spiega non c'è nessun contrasto tra il regolamento ancora in discussione e la nostra ordinanza che va a rafforzare il sistema di raccolta porta a porta La scelta di organizzare il sistema di raccolta differenziata e non solo per il tramite di un'ordinanza ha creato diverse tensioni in Consiglio Comunale soprattutto i componenti delle tre commissioni che hanno definito l'emendamento da presentare all'amministrazione hanno chiesto l'immediato ritiro dell'ordinanza Intanto lo stesso Siciliano mentre da poche ore ripreso il conferimento dei rifiuti a Timpazzo esclude che l'amministrazione possa emettere sanzioni ai danni di Tecra società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul fronte del mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata l'obbligo di differenziare spette i cittadini conclude ci sono sentenze che si esprimono in questo senso Tecra si occupa soltanto di effettuare la raccolta e il successivo smaltimento dei rifiuti i grillini però non ci stanno l'amministrazione messinese è sorda e rifiuta qualunque forma di dialogo questa amministrazione decide di ignorare le comuni regole del governare scrivono i consiglieri per proseguire dritto solitaria e incerta così emettono ordinanza sulla gestione dei rifiuti che è priva di qualsivoglia presupposto giuridico senza che ci sia l'urgenza il pericolo o lo stato di necessità il sindaco interviene a regolamentare ciò che il consiglio comunale sta già facendo in aula mentre un'ordinanza priva di fondamento giuridico non viene valutata sul piano economico il regolamento legittimo del consiglio viene bocciato dal dirigente perché prevedeva un sistema premiale per i cittadini in tutta questa storia il consiglio comunale non ha ancora approvato il regolamento in attesa che il sindaco revochi l'ordinanza il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle si è opposto al rinvio e ha chiesto che si votasse subito il regolamento perché questo è l'unico strumento per arrivare ad avere un servizio efficiente di raccolta differenziata l'unico modo per permeare i cittadini che differenziano l'unico sistema per togliere valore ed efficacia all'inutile, pericolosa e non fondata ordinanza del sindaco solo al comando è possibile presentare la domanda per le borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016 possono richiedere il beneficio ai genitori degli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie, primaria, secondaria di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE relativa ai redditi del 2014 non superiore a 10.632,94 euro per il sostegno delle spese sostenute per l'istruzione ad esclusione di quelle riferite ai libri di testo obbligatori le domande sono reperibili al comune o presso le segreterie delle scuole scaricabili dal sito unitamente sui allegati e dovranno essere presentate esclusivamente alla segreteria della scuola di appartenenza e entrano oltre il 30 settembre prossimo in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che il saggio della scuola di danza dell'insegnante Claudia Traenito andrà in onda sulla nostra emittente domani subito dopo il TG Silos intorno alle 20.30 ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la tappa che hanno fatto a Gela i pellegrini alla ricerca della via francigena ripercorrendo antichi cammini vediamo passa da Gela un pezzo della via francigena di Sicilia che un gruppo di studiosi ha riportato alla luce grazie alla sinergia tra cantiere Gela la casa del volontariato e la piccola casa della divina misericordia la città gelese ha offerto ospitalità a 10 pellegrini in cammino già da alcuni giorni con la collaborazione della proloco Gela e dell'associazione Geloitriskelion si getteranno le basi per segnare tramite apposita segnaletica il percorso litoraneo della via francigena che passa da Gela e il supporto logistiche pellegrini il gruppo dei camminatori della via francigena di Sicilia è stato accolto ieri dei volontari della comunità urbana di cantiere Gela ed è stato ospitato per una notte presso la casa della divina misericordia un pellegrinaggio che si può chiamare cammino nasce da lontano abbiamo eseguito tutta una fase di studio su quelle che potrebbero essere le tratte che dal medioevo noi abbiamo deciso di occuparci di questa fase storica venivano percorse da viandanti nella viabilità normale regolare su queste strade ci passava chiunque ci passano i pellegrini ci passano i soldati ci passano i mercanti e Gela è nel periodo medievale quando si chiama Eraclea un punto molto forte e importante della viabilità siciliana ognuno di noi ha motivazioni differenti in particolare per me che sono siciliana e mi sono dovuta allontanare da questa terra riscoprire la mia terra e far conoscerne le bellezze e non solamente le cose brutte che si sanno in giro ma soprattutto riscoprire la storia e le storie delle sue genti ti arricchisce dal punto di vista culturale ma ti arricchisce dal punto di vista anche spirituale due anni fa abbiamo dato supporto per aprire i cammini francigeni e inserire Gela in questo percorso ospitando una signora francese Isabelle che ha fatto un po' da apripista in questo percorso e nel tempo abbiamo cercato di incentivare questa iniziativa inserendo la nostra città conosciuta soprattutto anche per la sua storia medievale e quindi rientrando in quei percorsi che appunto realizzati nella fase medievale la casa del volontariato insieme alla casa della timina misericordia insieme a Cantiere Gela continua a costruire quelle reti che sono necessarie per qualsiasi progetto di sviluppo è interessantissimo il percorso di riscoperta della via frangigena in Sicilia e può segnare un tassello noi abbiamo una necessità urgente di passare da una politica degli ombrellini a una politica delle progettualità per costruire insieme alla città insieme alle associazioni insieme ai cittadini di questo territorio un futuro possibile Quello di recuperare la storia addirittura così antica e così importante e così pregnante è quello che a noi fa crescere in consapevolezza e nel recupero identitario le vie francigene sono delle vie che si ritrovano in tutta Europa erano tutte vie che portavano ai luoghi santi e in particolare alla terra santa per quanto ci riguarda e Roma Nelle interviste che seguono le riflessioni e le motivazioni dei pellegrini che intraprendono il cammino sentiamo I motivi del cammino possono essere tanti può essere un motivo religioso può essere un motivo spirituale può essere un motivo per chi piace camminare può essere come diceva il nostro amico un motivo per incontrare altra gente del posto tra di noi tra i camminatori tra i pellegrini uno dei motivi per cui si intraprende questo cammino è ripercorrere le vie storiche che abbiamo in Sicilia e quindi vedere la Sicilia sotto un'altra ottica l'ottica di quello che ci hanno tramandato i nostri padri quindi noi ripercorrendo questi cammini sotto la veste dei pellegrini incontriamo anche la storia e vediamo la Sicilia sotto un'ottica diversa questo è direi una logica conseguenza degli altri cammini che ho fatto in Sicilia negli altri anni perché voi sapete che le vie francigene siciliane ce ne sono alcune l'anno scorso per esempio abbiamo fatto la Palermo Messina per le montagne e gli anni precedenti altre vie e quindi chiaramente ormai facendo parte di questa associazione mi sembrava logico questo completamento delle vie francigene siciliane questi cammini ti arricchiscono perché si colgono soprattutto per me questa è la valenza principale il discorso dell'accoglienza quando si arriva e si viene accolti è un grande dono che di questi tempi è difficile e comunque si apprezzano moltissimo le motivazioni sono tante ma soprattutto quella di incontrarsi di vivere delle emozioni dei percorsi insieme a delle persone diverse per conoscersi e poi per affrontare una fatica che comunque alla fine ti fa crescere e poi soprattutto durante il percorso le persone domandano ti chiedono dove arrivi cosa fate e poi vabbè come lo state dimostrando voi stasera all'arrivo arrivi esausto stanco che magari solo voglia di fare la doccia però se incontri una persona che ti chiede qualcosa non può esimerti di sederti parlare discutere confrontarsi è bello è bello comunque molto bello sono passati cinque anni dalla scomparsa di Don Giulio Scuvera il centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo assieme all'associazione Gaudium et Spes Don Giulio Scuvera lo ricorda nella parrocchia Sant'Omaso a Butera appuntamento previsto per oggi alle 19 con una solenne celebrazione eucaristica si rinnova l'appuntamento con la manifestazione l'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione amici della musica navarra di Gela con il patrocinio del comune domani alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine è prevista il concerto lirico del trio Micaela d'Alessandro soprano salvo di salvo baritono e Annalisa mangano al pianoforte il direttore artistico della manifestazione e il maestro crocifisso Ragona la novità di quest'anno degli abbonati sarà che gli stessi abbonati potranno ricevere quest'anno una bella rivista un bel progetto editoriale edito appunto organizzato dal direttore del Corriere di Gela Rocco Cerro per i dieci anni della presidenza Tuccio ci parli un po' di questo nuovo progetto è per la promozione della squadra in serie D roba inedita per Tuccio parli di novità mettiamocelo un aggettivo qualificativo è una buona novità voglio dire che farà piacere alla tifoseria perché potrà rivedere attraverso le tantissime immagini che abbiamo inserito noi al Corriere abbiamo un archivio fornitissimo non solo degli ultimi dieci anni ovviamente ma da quando è uscito per la prima volta in edicola 32 anni fa e abbiamo voluto fare un omaggio intanto al presidente perché per la prima volta lui ha un record nessuno mai nella storia del calcio gelese è durato dieci anni alla guida della stessa società e se poi facciamo anche un bilancio di quello che è accaduto in questi dieci anni vediamo che il bilancio è oltremodo positivo perché ci sono campionati di alto livello abbiamo avuto giocatori di altissimo livello e adesso stiamo riprendendo quote per tornare ai fasti di 5, 6, 7 anni fa i dieci anni del gelacalcio servono anche non solo a consegnare alla storia quello che è accaduto nel campo calcistico di questa città ma anche a stimolare lo stesso Tuccio e altri che eventualmente volessero affiancarlo a fare di più di meglio per cercare di arrivare a quella storica promozione in Serie B che aspettiamo e che penso che sia un obiettivo mal nascosto dal Presidente perché forse punta veramente l'AC1 se l'è passato il piacere l'AC2 pure gli manca la B si è passato anche il dispiacere della terza categoria della seconda della prima quindi questo libro è commemorativo e celebrativo quindi ma è anche un documento storico che penso i tifosi che avranno modo di averlo acquistando l'abbonamento del gelacalcio per questa stagione è nell'edicole possono in qualche modo conservarlo tra i libri che hanno a casa e sfogliarselo ogni qual volta gli viene come dire un po' di nostalgia per i tempi belli del calcio e che sia d'auspicio anche per i tempi belli che verranno primo trofeo podistico Ivan Siciliano si terrà domenica 31 luglio prossimo a Marina di Acate l'iniziativa è dell'associazione contro le stragi del sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino la gara che avrà inizio alle 17.30 è valevole come undicesima prova del Grand Prix provinciale Senior Master le iscrizioni possono essere effettuate entro il prossimo 27 luglio all'indirizzo mail siciliachiocciolamaisdam.it sarà presentato ufficialmente domani alla città il progetto Ecoplast Volley nato dall'unione dell'SD Pegasus Volley di Alessandro Urso e il main sponsor 2016 Ecoplast SRL l'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare e qualificare il settore della pallavolo appuntamento alle 19.30 domani presso la Duna Summer Club a lungomare Federico II di Svevia a Gela si terrà un mini torneo di sandvolley organizzato e pensato da Giovanni Blanco social partner dell'evento sarà l'Admo l'associazione donatori midollo osseo presieduta da Giacomo Giurato siamo allo spettacolo attenti a quei due lo spettacolo teatrale che sarà portato in scena domani alle 21 dalla compagnia antidoto presso la piazza antistante la chiesa Santa Maria di Betlemme l'evento è promosso dal comune di Gela sabato 30 luglio alle 21.30 invece Giobbe Covatta presenterà la Divina Commediola in questo caso il biglietto costerà 10 euro bene è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e aver scelto anche oggi la nostra informazione è tutto per questa settimana buon fine settimana a tutti grazie 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 a tutti